Un ragazzo di 22 anni è stato trovato morto in casa Scauri nella provincia di Latina. Un amico del giovane ha dato l'allarme nel pomeriggio di ieri 6 gennaio 2021. Il 22enne abitava in una traversa di via Appia, era originario del Gambia e lavorava in un negozio di Scauri. Sul posto i carabinieri e la polizia e i sanitari del 118 ancora ad accertare le cause del decesso ma sembra che il ragazzo sia morto a causa delle esalazioni di monossido di carbonio provenienti quasi sicuramente da una stufetta a gas.